ciao ragazzi benvenuti a the wildlife corner il canale della fotografia naturalistica nel video di oggi vi racconto la mia piccola avventura norvegese se avete seguito i video precedenti saprete che sono stati in norvegia ho fatto una piccola spedizione alla ricerca del bue muschiato e oggi vi racconto come sono andate le cose vi do un po di informazioni se mai foste interessati a questo tipo di esperienza e vi do anche le mie impressioni su sia sulla norvegia sia sulla fotografia insomma sul bue muschiato su che cosa si può effettivamente fotografare allora intanto perché ho deciso di fare questo viaggio è un viaggio di scouting perché volevo organizzare per il prossimo anno dei viaggi fotografici in norvegia e quindi sono andato a testare con mano quanto fosse effettivamente fattibile quanto è impegnativo fisicamente quanto è facile o difficile fotografare gli animali come l'ambiente insomma sono andato a vedere un po tutte quelle cose che poi servono per fare per organizzare un viaggio ben fatto per regalare a chi viene un'esperienza piacevole abbiamo deciso di volare a oslo e poi di prendere una macchina ci sono dei modi anche diciamo più rapidi per arrivare nella zona dove c'è il bue muschiato ma essendo la prima volta che andavo in norvegia mi piaceva l'idea anche di vedere un po il il paesaggio guidando anche in macchina la zona dove si fotografa il bue muschiato è almeno con la maggiore probabilità è una grassa area naturale un grande parco che si chiama dover frio che diciamo 4 500 chilometri a nord di oslo e questa zona si può raggiungere anche con dei voli interni invece noi siamo andati ad oslo poi abbiamo preso una macchina e abbiamo guidato fino a questo posto guardando un po il paesaggio circostante abbiamo scelto questo periodo dell'anno perché è un periodo in cui c'è ancora la neve ma le temperature non sono proibitive quindi quando si arriva a oslo ad aprile si trova un po di neve non tantissima temperature diciamo vicine allo zero ma insomma sopportabili poi man mano che ci si sposta verso nord verso il doverfield le temperature si abbassano un po si scende qualche grado sotto lo zero e soprattutto il paesaggio diventa innevato e la cosa che mi ha colpito moltissimo è che tutti i corsi d'acqua sono ghiacciati con il ghiaccio che in alcuni punti inizia a spaccarsi dando degli effetti veramente suggestivi addirittura su un ponticello dove abbiamo fatto qualche foto il ghiaccio si è spaccato proprio mentre noi eravamo lì quindi insomma abbiamo fatto anche qualche foto un qualche video carino è un diciamo una bella una bella visione dal punto di vista ecco anche paesaggistico anche se non era questo il motivo per cui siamo andati lì lungo la strada ci avevano detto che avremmo potuto incontrare renne alci insomma vari animali ma in realtà non siamo stati particolarmente fortunati da questo punto di vista abbiamo avuto l'opportunità di fotografare molto bene il merlo acquaiolo in una zona di quelle dove siamo passati perché ci sono dei corsi d'acqua che si prestavano parecchio a questo tipo di foto il mer acquaiolo e c'era c'era lo abbiamo visto quindi ci siamo messi lì abbiamo investito qualche ora nel tentativo di fare un po di foto ovviamente sarebbe stata una cosa su cui investire più tempo ma non ne avevamo tantissimo e quindi siamo rimasti per poco però insomma è stata una cosa molto molto carina abbiamo fotografato anche degli scogliattoli nel bosco un picchio rosso insomma qualche cosa diciamo lungo il viaggio abbiamo trovato anche se non i mammiferi che speravamo di vedere nella zona del doverfiel invece dove siamo poi usciti per due giorni alla ricerca del buio muschiato abbiamo incontrato la nostra guida e qui diciamo la prima cosa che insomma che mi sento di raccomandare a chiunque voglia andare a fare delle della fotografia di questo tipo in norvegia è quella di non andarci da solo perché non è così facile trovare il buio muschiato io nel mio immaginario me l'ero avevo pensato diciamo che fosse diffuso un po come il bisonte a yellowstone uno di quegli animali che tu vedi la prima volta ne rimani colpito fotografia e poi lo rivedi ancora 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 dopo tre giorni che sei a yellowstone è diventato come una parte del paesaggio come come guardare le mucche da noi ecco invece il buio muschiato non è così diffuso purtroppo quindi ce ne sono pochi e localizzare queste mandrie questi gruppi o anche individui isolati non è facile perché il territorio è molto vasto e ci sono delle zone preferenziali dove loro insomma passano transitano si avvicinano ma se uno va lì senza sapere nulla è veramente difficile trovarli le guide invece hanno un network di sono un network di guide quindi quando c'è un avvistamento dopo un po lo sanno tutte le guide e quindi riescono ad offrirti un'esperienza migliore tanto per dirvi diciamo dei numeri la guida che ci ha accompagnato sono trent'anni che fa questo lavoro in trent'anni solamente sette volte è uscito senza trovare il buio muschiato di sette volte in trent'anni insomma uscendo tutti i giorni è veramente una media insomma notevolissima quindi il primo consiglio è sul diciamo sul sul su questa esperienza e questo da soli veramente si rischia di fare una grande fatica com'è il territorio quali sono diciamo il vestiario le attrezzature che servono e qual è l'attrezzatura fotografica allora il territorio è ovviamente montuoso ma è una montagna diversa dalla nostra nel senso che per arrivare nell'area dove c'è il buio muschiato non ci sono delle enormi salite ci sono delle delle salite e poi il il paesaggio è fintamente pianeggiante perché sembra piano ma in realtà ci sono delle degli avvallamenti quindi si cammina per un po' poi si scende magari per cinque metri dieci metri poi si risale per altri dieci metri quindi purtroppo questo impedisce di localizzare anche facilmente il buio muschiato perché se è in uno di quegli avvallamenti non lo si vede neanche col binocolo perché è semplicemente più in basso quindi non è pianeggiante come sembrerebbe però la salita diciamo le salite non sono particolarmente ripide cioè non sono come i sentieri dell'abruzzo dove tipicamente uno a tre quattro cinque cinquecento seicento metri di dislivello magari anche in in due tre chilometri di sentiero quindi sale verticalmente la salita è molto molto più dolce però la neve è ancora tanta in questo periodo per non parlare del periodo diciamo precedente quindi marzo febbraio gennaio e quindi si bisogna andare con le ciaspole ovviamente quindi questa è la prima attrezzatura fondamentale e non c'è quindi una salita enorme però c'è da camminare parecchio a meno che uno non sia fortunato e si trovi il buio muschiato appena sa appena arriva può camminare anche per diverse ore noi abbiamo fatto un paio d'ore e mezza di camminata prima di trovarlo e altrettante ovviamente per tornare indietro però c'erano anche delle altre mandri e dove diciamo poter saremmo potuti andare che per i quali la guida aveva ricevuto delle informazioni ma lì ci sarebbe stato da camminare addirittura sei ore per poterci arrivare quindi insomma dipende da quando da quanto uno è fortunato la quantità di chilometri che fa questo però significa che l'altra cosa importantissima considerando che c'è comunque una certa fatica fisica la temperatura è di qualche grado sotto lo zero in questo periodo meno 5 meno 6 poi sale intorno allo zero verso mezzogiorno per poi riscendere e ci può essere anche un vento più o meno forte nel nostro caso nel primo giorno era estremamente forte quindi detto questo come quali sono le cose importanti all'intanto è fondamentale essere vestiti a strati perché altrimenti salendo camminando eccetera si suda e poi quando ci si ferma ci si congela in pochi minuti quindi la cosa essenziale è essere vestiti a strati in questo periodo specifico dell'anno si può andare vestiti con una maglietta termica uno strato termico sopra io personalmente non ho messo uno strato termico pesante ma ho usato solo un goretex da mettere qui sopra perché comunque camminando si sta bene anche quando ci siamo fermati ormai la temperatura era arrivata intorno a meno uno zero così quindi non era particolarmente freddo però insomma uno strato termico pesante bisogna sempre averlo perché poi le temperature possono scendere anche parecchio fondamentale è uno strato antivento perché su questa su questi diciamo queste colline alte questi falso piani c'è comunque un vento sempre abbastanza forte e l'altra cosa fondamentale è avere qualche protezione per gli occhi perché quando tira il vento la neve diventa una sorta di coltello che insomma ti colpisce sulla faccia quindi avere una maschera da snowboard almeno degli occhiali da sole una cosa di questo genere è molto importante fondamentale avere dei guanti possibilmente riscaldandoseli con delle bustine di quelle che si mettono all'interno dei guanti quelle che a contatto con l'aria sprigionano calore io le consiglio anche per i piedi perché comunque si tende a diciamo a rimanere fermi per un po poi quando si trova il bue muschiato e quindi è piacevole avere questo calore che viene sprigionato per diverse ore per quanto riguarda l'altra cosa fondamentale da tenere presente che data la fatica fisica che bisogna fare portarsi troppo peso può essere veramente un calvario può essere un'esperienza veramente brutta che poi non vi fa apprezzare quello che poi trovate da fotografare quindi tenete presente che potete camminare anche per 3 4 5 6 ore ed è vero che non è una camminata super impegnativa in termini di pendenza ma nella neve con le ciaspole comunque ci sono salite e discese portare uno zaino che pesa 30 chili e diventa una cosa veramente complicata quindi ecco vi consiglio comunque un'attrezzatura diciamo il più leggera possibile che tipo di attrezzatura serve per fotografare il bue muschiato allora diciamo che il bue muschiato è un animale che come molti altri animali selvatici non gradisce particolarmente la presenza dell'uomo specialmente all'inizio quindi non è un animale a cui si può arrivare a tre metri e scattare una foto col cellulare noi quando li abbiamo avvistati abbiamo avvistati sia il primo che il secondo giorno in due condizioni diverse il primo giorno che è stato il migliore fotograficamente li abbiamo avvistati da lontano saremo stati a un chilometro con il binocolo quindi ci siamo avvicinati piano piano e ci siamo fermati a circa 200 metri da loro e abbiamo aspettato prima di poterci avvicinare un po almeno un'oretta poi ci siamo avvicinati diciamo a un centinaio di metri e poi ci siamo seduti la nostra guida ha scavato una specie di diciamo di sedile nella neve con una pala che aveva portato dietro ha fatto una specie di ricovero diciamo dove ci siamo fermati e abbiamo aspettato per un'altra ora e mezza anche due e dopodiché praticamente i bue muschiati si sono talmente abituati alla nostra presenza che sono venuti verso di noi cioè sono non siamo noi essere andati da loro ma viceversa sono loro che si sono avvicinati a noi e quindi sono arrivati a distanze anche molto molto corte saranno stati diciamo tra i 20 30 metri quindi bisogna tenere presente che se la giornata è positiva cioè se non ci sono disturbi possono arrivare anche molto vicino il primo giorno però non c'erano disturbi perché eravamo solo noi siccome era prevista una tempesta di neve praticamente non era uscito nessuno invece la giornata è stata migliore del previsto e quindi siamo riusciti a stare con questi due bue muschiati per praticamente sei ore senza nessun disturbo il secondo giorno invece dove c'erano in giro centinaia di persone che si comportavano nei modi peggiori del mondo abbiamo trovato addirittura 4 o 5 bue muschiati una mandria diciamo più consistente ma siccome erano infastiditi si sono allontanati progressivamente mettendosi in una posizione molto più difficile fotograficamente tenete presente che la natura del territorio cioè avere questi piani sfalsati rende difficile trovare una posizione buona fotograficamente se loro decidono di spostarsi in una vallata e l'altra cosa importante è che il bue muschiato anche se sembra un animale piuttosto grosso e corpulento in realtà è un animale velocissimo il bue muschiato tipicamente alto tra il metro e 10 e metro e 50 al garrese e pesa anche fino a 400 kg ma riesce a fare una specie di trotto che raggiunge i 50 60 chilometri orari quindi quando decide di andarsene è sostanzialmente impossibile riuscire a fare delle foto quindi detto questo l'attrezzatura fondamentale da avere è un teleobiettivo almeno di 400 500 millimetri 600 millimetri magari se lo avete un moltiplicatore perché non è detto che si riesca ad avvicinarsi a distanze molto molto corte può accadere ma può anche non accadere per quanto riguarda il tipo di obiettivo io personalmente ho utilizzato un 200 600 della sony quindi ho potuto fare sia foto ravvicinate che foto più ambientate ovviamente zoomando a 200 millimetri se uno ha un fisso molto lungo chiaramente questa flessibilità un po la perde se volete avere questa doppia opportunità io vi sconsiglio caldamente di cambiare l'obiettivo lì fuori perché quando c'è il vento come c'era il giorno in cui ci siamo andati noi diventa veramente rischioso cambiarlo senza c'è si diventa rischioso perché si può magari va a finire la neve la polvere all'interno della macchina si sporca il sensore e poi lì c'è poco da fare quindi io vi consiglio eventualmente di portarvi un secondo corpo macchina se volete anche delle foto più ravvicinate ma onestamente io mettere un duplicatore o cambiare l'obiettivo in quella condizione non lo farei a parte che è difficile con i guanti con le mani ghiacciate però con le condizioni ambientali con il vento forte con la neve che vola nell'aria sono davvero insomma poco indicate per questo detto questo poi ecco bisogna armarsi di pazienza e come al solito semmai ce ne fosse stato bisogno che la natura me lo ricordasse l'approccio è la cosa fondamentale ripeto aspettando un po di tempo addirittura il bue muschiato è venuto da noi invece che viceversa e insomma siamo riusciti a fare delle delle belle foto che altri animali ci sono nella zona ci sono ovviamente come vi dicevo renne alci anche se in questi giorni dove noi siamo andati c'era stato un tempo brutto quindi non c'erano in giro però si possono anche avvistare non è così semplice c'è la pernice bianca ne abbiamo viste tantissime ma non è il periodo giusto la pernice è un uccello che difende il territorio nel periodo dell'accoppiamento che avviene più più in là in questo periodo a maggio nel periodo in cui sto registrando il video noi siamo andati all'inizio di aprile e non è il periodo giusto perché quando dà vista quando ti vede sostanzialmente si nasconde sotto la neve oppure vola e se ne va via quindi se si nasconde è praticamente impossibile vederla e se decide di volare è praticamente impossibile fotografarla perché tanto vola sempre dal verso opposto e quindi non non si riesce quindi ne abbiamo viste tante però fotograficamente non è stata una diciamo una cosa insomma particolarmente interessante quindi sostanzialmente la cosa che siamo riusciti a fotografare bene è stato il buon muschiato che poi era quello per cui per cui ci eravamo andati e che detto questo la mia idea di organizzare un viaggio fotografico l'anno prossimo l'ho confermata ho visto un po come l'ambiente ho visto quali sono le condizioni e insomma mi sembra una cosa carina da proporre e questo perché la norvegia è intanto un posto abbastanza vicino si arriva in tre ore d'aereo non è particolarmente costoso arrivare con l'aereo la norvegia un paese ovviamente non economico perché è un paese diciamo ricco rispetto a noi quindi le cose costano un po in proporzione però è un viaggio che si può fare anche con 5 6 giorni così quindi non non è diciamo una un costo eccezionale ed è però una cosa molto carina poi il buon muschiato un animale veramente particolare c'è questo contrasto fra la sua struttura fisica così imponente e questi occhioni malinconici che ha insomma mi ha colpito molto e penso sia una cosa interessante l'altra cosa che mi ha colpito della norvegia a parte il paesaggio è quella che le persone sono molto più cordiali e amichevoli di quanto io mi fossi immaginato io pensavo mio preconcetto mentale paese nordico persone nordiche e invece devo dire che insomma ho chiacchierato tantissimo con poco tutta la gente che ho incontrato in giro quelli che ho fermato per strada per chiedere informazioni persone che ho incontrato lungo la strada lungo i sentieri la nostra guida ed è stato interessante e credo che sia anche carino diciamo nell'ambito di un viaggio fotografico anche avere poi uno spaccato di vita di quello che è un paese diverso per esempio parlando con la nostra guida mi ha detto scherzosamente se voleva andare a caccia di renne con lui ovviamente io ho detto io guarda io sono contrario alla caccia all'unica caccia che faccio è questa con l'obiettivo e da lì abbiamo cominciato così a chiacchierare e mi ha raccontato tutta la storia della diciamo della renna come animale che ha permesso lo sviluppo della popolazione dei vichinghi e che quindi gli ha permesso di fare tutta una serie di cose tra cui anche spostarsi per lunghe distanze via mare addirittura arrivare fino sulle coste degli stati uniti da lì abbiamo discusso poi su come sono fatti gli attrezzi le scarpe i vestiti insomma è stato un uno spaccato di vita interessante anche perché questo tipo di cose ci aiuta a guardare il mondo anche con occhi diversi dai nostri io sono una persona sostanzialmente contraria a qualunque forma di caccia e di specialmente nel 2022 ma è sempre interessante confrontarsi con persone che vengono da luoghi invece dove questa pratica è ancora diffusa o comunque lo è stata nel passato capire i loro punti di vista e capire come funzionano le cose e magari anche capire dove si può insistere per cercare di magari diffondere l'idea che certe cose ormai non hanno più senso sono anacronistiche e che potrebbero essere sostituite da altre quindi ecco una cosa questa molto molto interessante quindi se qualcuno di voi fosse interessato a questa esperienza poi restate sintonizzati quando sarà il momento tra qualche mese sicuramente pubblicheremo un calendario con con delle date e con più dettagli diciamo sull'esperienza e se nel frattempo volete avere più informazioni o avete altri dubbi curiosità domande naturalmente me le potete lasciare qui sotto grazie per l'attenzione e ci vediamo nel prossimo video